Così ha voluto Dio. Durante il processo all'accusato è concesso solamente un avvocato. Quindi da ora in poi lei, Topolino, dovrà difendersi da sola. Lo fa Milosefisch, lo può fare anche lei. Lei non sa con chi sta parlando. Guardi, lei non sa con chi sta parlando. Chiaro? Questo è il primo processo a Topolino. Che si svolge per internet, per voi. Il giudizio verrà emesso in semplice clic in mouse. Io me ne prego di voi, altamente. La parola alla cura, prego l'avvocato Piperino. Dementi. Allora, signor Topolino, è vero che riuscì a liberarsi di tre uomini della finanza che avevano scoperto anomalie nel suo impero di anguria, investe. In particolare su investimenti anomali di misteriose società donando ai tre finanzieri alcune casse di anguria? Questo è falso. Ma non è falso che questi finanzieri ricevettero centinaia di milioni di un topo, li direi, dai manager del suo gruppo Anguria Invest. Ci hanno confessato e sono stati condannati. Se erano forse autotassati... Ma io non posso sopportare questa cosa. Io me ne vado perché state dicendo un sacco di cazzate qua dentro. Ma dove stiamo? Si calmi e si accomodi, grazie. Si erano forse autotassati dai loro stipendi per non chiedere il consenso a lei? Oppure avevano preso questa iniziativa a titolo personale? E perché allora lei non li ha condannati, anzi li ha promossi? Perché erano dei bravi ragazzi e mi ridavano di essere promossi. Allora vediamo se può rispondere la nostra giuria da casa che dice... Vota! Dicono che lei è colpevole. Questi sono... 15 anni per corruzione. Mi fate ridere! È vero che entrò a far parte della setta Anguria 2 pagando la quota di iscrizione di 100 Anguria? Io non ho pagato nessuna quota, sia ben chiaro. Ho ricevuto l'iscrizione di regalo per posta, senza che io la richiedessi. La prova, signor giudice... Non mi interrompa quando parlo io, per cortesia. La parola alla difesa, signor Ducato Pippe. Che sto dicendo? Semplicemente la verità. Ma non mi interrompa a lei. Mi sembra di stare al circo qui, i salti in banco, i clown! Signor giudice, ecco la prova, un pezzo di Anguria che si ha detrovato. Con quel pezzo, so io che c'è per lei con quel pezzo. Al momento dell'irruzione della polizia nella setta Anguria 2, questa Anguria porta il timbro topolino. L'agente ha deciso per altri 10... No, sono 12 anni. E per oggi questo era la prima giornata di processo dall'aula della banda Cazzotti. Grazie. 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 Grazie.